Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale del vostro palazzone Oggi ragazzi, prima che inizi il video, ci tengo a dirvi una cosa Arriverà più o meno a metà settimana un video clamoroso ragazzi L'apertura di un box con un ospite Qualcuno di voi potrebbe già indovinare e sapere di chi stiamo parlando Non c'entra col mondo di YouTube al momento Però questo video deve raggiungere assolutamente 250 mi piace Mi raccomando ragazzoni, conto su di voi Eccoci qui ragazzi con un nuovo video Oggi parliamo di un set che mi ha molto 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 colpito Ve ne ho già parlato più o meno all'incirca un quattro mesi fa Il canale non era come adesso anche a livello di partecipazione ovviamente vostra Ma oggi ci tengo a fare questo video perché sempre più spesso su Instagram Trovate il mio link in descrizione insieme al Movie Mania Mi raccomando, codice PALAZ 7% di sconto Ricevo delle domande del tipo Palaz ma così, a tuo diciamo piacere Qual è secondo te il set che più ha possibilità di esplodere nel 2021 Qual è il set con un probabile più alto incremento eccetera eccetera Ho fatto un video più o meno quattro mesi fa a riguardo di questo set Che è Voltaggio Sfolgorante Chi mi conosce, anche i miei amici stretti, sanno benissimo che gliel'ho consigliato di comprare un box Io reputo a mani basse che Voltaggio Sfolgorante sia il set di spada e scudo più bello in assoluto Ma adesso andremo a capire ovviamente per quale motivo Anche se comunque molti di voi lo sanno Ma per darvi anche un'idea di come e di quanto sia apprezzato Voltaggio Sfolgorante Non solo in Italia e di quanto sia già aumentato a distanza di quattro mesi dalla sua uscita ufficiale Voltaggio Sfolgorante ragazzi, come ho detto poc'anzi Reputo che sia il set più bello di scudo e spada Perché? Perché è una tipologia di quel set, di quei set che sono un misto tra il nuovo Vedasi Zarude ad esempio V Full Art, molto bella in quella versione E carte come Pikachu, carte come Rayquaza Mazing E dunque io credo che Voltaggio Sfolgorante sia il set che nel corso di quest'anno Possa fare il boom più grande in assoluto Perché? Mi ricorda molto, diciamo se devo essere onesto Eclissi Cosmica per quanto riguarda Sole e Luna Poi ragazzi, ognuno può avere la sua visione Vi può piacere, vi può non piacere Chiaramente Questo set, parliamo un attimo dei prezzi dei prodotti Faccio un esempio, gli ETB e il box In Italia un ETB lo trovate tranquillamente ancora a 60€ Mentre per quanto riguarda il box il prezzo si è già alzato nell'arco di quattro mesi Nei pre-order lo trovavate più o meno a 135€ Oggi lo trovate già a 20-30€ in più La particolarità invece è per quanto riguarda le versioni inglesi La versione inglese anch'essa la trovavate in pre-order più o meno sui 130€ Adesso viaggia il box più o meno sui 200€ Il che è un aumento molto alto nel corso di quattro mesi Ma soffermiamoci un attimo sulle carte Ho studiato un po' quello che è il set Quindi ogni singola carta contenuta praticamente all'interno del set Dalla reverse più costosa alla carta più costosa in generale Ragazzi io non trovo una carta che sia brutta Non faccio fatica a trovarne una Allora passo ovviamente dalla carta che è simbolo di questo set Che è il Pikachu Vi faccio un esempio Il Pikachu VMAX, quello normale, cioè il VMAX base, non l'Hyper Più o meno veniva venduto intorno a gennaio sui 12-13€ Oggi sta all'incirca 25€ Il Pikachu V Full Art, forse il più bello in assoluto Veniva venduto intorno ai 40-45€ Oggi siamo ai 70-75€ Così come il Pikachu VMAX Hyper ragazzi Sono andato a vedere i venduti di gennaio Comunque una tabella di crescita del prezzo I venduti di gennaio ruotavano intorno più o meno ai 170-180€ Oggi parliamo di una carta da quasi 260-270€ Questi sono alcuni esempi del Pokémon che è ovviamente il più iconico e il più ricercato di questo set Ma non solo, è un set molto ricco ragazzi È un set che contiene i Pikachu, che contiene tutte le Amazing Raikwaza, io ne avevo trovate due, le avevo vendute più o meno intorno ai 18-19€ Oggi siamo ai 30 Girachi, Raikou, Celebi, Zacian, Zamazenta È veramente un full set di Amazing È molto bello nel suo complesso E tra l'altro, ovviamente, si è già alzato Anche perché Raikwaza è chiaramente la carta più ricercata E già nell'arco di poche settimane, pochi mesi Si è già alzata quasi praticamente del doppio Ma poi ci sono tante altre carte molto belle Io non riesco a trovare una trainer che sia brutta Che sia Hyper o che sia appunto Full Art normale Sono tutte belle Nessa su tutte, ovviamente Ma così anche Dandel Le Full Art viaggiano più o meno dai 18-20€ Prima stavano già 5-6€ in meno Le Hyper viaggiano tutte più o meno intorno ai 28-30€ Cosa che prima in realtà viaggiavano più o meno sui 18-20€ all'incirca Come dicevo prima, io penso che Voltaggio Sfolgorante sia veramente La perfetta simbiosi tra nuovo e vecchio Nuovo, carte come ad esempio Zarude Full Art Molto bello il V Ma anche carte, per esempio, come anche Obstagoon di Galar in versione Gold Anch'essa ovviamente salita E poi tanti altri Pokémon molto iconici Per esempio Alakazam Full Art Molto bello, viaggia intorno ai 15-20€ Ampharos, molto bello Ma anche Togekiss in tutte le sue versioni V, V Full Art e V Max E l'Hyper Sono tutte veramente molto belle Tra l'altro, così piccola chiosa per completare Il discorso, diciamo, tra virgolette economico del set Chisard Reverse Un Chisard Reverse normalissima Viaggiava intorno ai 4€ Più o meno verso gennaio Oggi pagliamo di una carta da quasi 15€ Ma anche, per esempio, le carte del Pre-Elise Il Chisard Pre-Elise viaggiava sui 60-70€ Oggi 130€ di carta È un set molto ambito Quando mi fate la domanda, secondo me, qual è il set migliore su cui puntare nel 2021 Oltre che poi il set, ovviamente, che uscirà nel 25€ di passare Ma non sappiamo ancora nulla Io vi devo rispondere assolutamente Con voltaggio sfolgorante Non so se ci saranno le stampe Non credo Anche se ormai si va di ondate Se non per la versione inglese Ne dubito fortemente Però ragazzi, questo è un set che deve assolutamente essere comprato Ripeto che quando parlo di un investimento Non intendo che dovete prendere il vostro conto in banca A buttarci 10.000€ in box di voltaggio sfolgorante Intendo prendetelo oggi Perché rischiate che tra 5, 6, 7 mesi Questo set, questo box Non lo trovate a 160€ Lo trovate a 260€ Perché l'aumento è molto rapido Neanche ve ne accorgete Quindi mi raccomando, ricordo sempre Che quando si parla Perlomeno sul mio canale di investimento Intendo comprate oggi Onde evitare un giorno di pagarlo di più Quindi la mia risposta definitiva è Probabilmente per me Per me Lorenzo Palazzo Il miglior set del 2021 Su cui investirci sopra qualcosina Che voi avete messo da parte È assolutamente voltaggio sfolgorante ragazzi Ed è da comprare per me Senza se e senza ma Tant'è che anche io adesso probabilmente Ti sto facendo un pensierino Ho già contattato in realtà Movie Mania Che ne è ancora disponibile qualcuno Per comprarne uno o due Ragazzi che dire Mi raccomando Lasciate un mi piace Se arriviamo a 250 mi piace Appena ci arriviamo Cioè se arriviamo anche stasera Ad esempio a 250 mi piace Domani vedete il video Mi raccomando ragazzi Carichi Fatemi sapere secondo voi Qual è il miglior set Su cui puntarci Su cui puntare nel 2021 Sia in termini di investimento Sia in termini di art Di bellezza delle carte Di pokemon ecologici Mi raccomando Voglio saperlo qui sotto Nei commenti Sono veramente molto curioso Di sapere la vostra In descrizione trovate Il link di Movie Mania Sul mona Codice Palace Per il 7% di sconto E il mio profilo Instagram ufficiale Nel frattempo Ho tirato qualche sfutacchio in giro Io vi saluto Ciao ragazzi Ciao